hai quelle due orette che perché qua perché non c'è qua un linguista cos'è dovremmo capire cos'è l'indignazione prima vengono qua gli spagnoli hanno fatto le strade con i cancelletti io conosco gente che arriva i cancelletti parcheggia davanti al cancelletto e chiama il taxi per riuscire a raggiungere l'albergo che al telefono ti dice vieni tranquillamente abbiamo il garage ma c'è il cancelletto nella via come faccio a raggiungere il garage e il vice ti dice fai il giro l'unica cosa a dirte il vice fa il giro il giro di cosa ecco perché cosa mi indigna a me l'urbanistica mi indigna questo è già un motivo e allora vado a Roma vado a Roma perché ho trovato il cancelletto forse oggi sono i tempi di rinchiudersi nella foresta perché fuori c'è Nottingham fuori c'è lo serifo quindi andate a fare l'ennesima manifestazione a Roma perfetto come se non ci fosse già abbastanza casino a Roma voglio dire a Roma è già una manifestazione non è una città a Roma è una manifestazione lasciam stare poi voglio dire arrivare in tempo chi verrà col treno auguri stranieri col treno se non ci fosse l'alta velocità altro che vabbè lasciamo stare in ogni caso io dico un motivo di indignazione c'è dovremmo tutti entrare in bagno guardarci allo specchio e indignarci questo è il problema cioè la realtà è un prodotto è una risultante di tutto quello che siamo noi e noi guardiamo siamo quella roba lì cioè il premier ha detto una stronzata e tu mi hai chiesto di quella stronzata ecco di cosa dobbiamo indignarci cioè del fatto che corriamo dietro ai tiramenti e dopo vogliamo fare quelli che ci ragionano noi tiriamo la freccetta sul muro e poi gli disegniamo i cerchi intorno come dire era frutto di un ragionamento tutto dal discorso a Grazie per la visione!